...però da festeggiare con un po' da mare in bocca per via di un episodio, il calcio di rigore non trasformato da Casarta al 28esimo del secondo tempo. Qui vediamo l'azione, c'è, vediamo delle immagini che si riferiscono appunto al secondo tempo. È il momento, credo, ecco, il momento del calcio di rigore assegnato dall'arbitro. Una spallata di Morini a Dalfiume, calcia Casarta senza rincorsa, Zoffo freddissimo si stende sulla sinistra e devia in angolo. C'è da dire che il pareggio...